Sono stati avviati in varie zone della città di Favara i lavori di pulizia e manutenzione delle calitoie cittadine. Gli interventi sono realizzati dal Comune in totale economia tramite l'utilizzo di personale in servizio presso lente e con i mezzi messi a disposizione dall'impresa del consigliere comunale Antonio Cipolla. Si tratta di interventi necessari ma che è stato finora impossibile effettuare per mancanza delle risorse economiche che consentissero l'affidamento ad un'impresa esterna, ha detto il sindaco di Favara Antonio Palumbo. Era però indispensabile partire prima dell'arrivo delle piogge per garantire la massima sicurezza ai cittadini. Questa vicenda continua e per certi versi la dimostrazione di come rientrino nel campo delle azioni straordinarie anche tutte quelle piccole o grandi manutenzioni quotidiane e così sarà finché il lavoro che stiamo compiendo, conclude, non porterà i suoi necessari frutti.